Questa è Rossella Pruneti e benvenuti a Bodybuilding Posse. Mi viene chiesto spesso cosa pensi della situazione della donna nel bodybuilding agonistico. E io dico che la situazione oggigiorno è splendida, stupenda. Cosa può volere di più una donna se non 5, 6, 7 categorie diverse, con sfumature di muscolatura di ogni tipo, da non muscolosa a muscolosissima. E lo stesso si può dire delle categorie maschili. La pluralità di categorie è una benedizione. Perché? Semplicemente perché quello che piace a me non è detto che piaccia a te. E quello che significa per me fare bodybuilding non è necessariamente quello che significa per te fare bodybuilding. Perché quello che significa fitness per una persona non è quello che significa fitness per un'altra persona. Prova un po' a pensarlo. Esci dalle mura della palestra. Fitness per una persona anziana è indipendenza. Possibilità di camminare verso il supermercato a fare la spesa. O di andare da solo in farmacia a prendersi le medicine. Fitness per una donna incinta è capacità di essere lo scrigno in quei 9 mesi per un bambino, per un bebè sano. E di poter continuare anche a esprimere la propria femminilità e a piacersi durante e subito dopo la gravidanza. Riuscendo a integrare il ruolo di mamma e moglie. Fitness per un vigile del fuoco è la forza fisica di riuscire a sollevare un ferito e portarlo via dal punto più pericoloso dove si sta svolgendo l'incendio o la catastrofe. Fitness per un genitore è la capacità di correre, giocare e saltellare con il proprio figlio al parco. Quindi fitness non è solo scegliere tra essere un men's physique o essere un supermassimo. Che cosa significa la pluralità di categorie dell'agonismo? E cosa significa la pluralità dei significati nel fitness? Che fitness sta tutto nella propria espressione, nell'esprimere te stesso. Nel bodybuilding e nel fitness sei tu il capo, hai tu la scelta. E' ovvio poi che se sei un agonista ti esprimi nei termini di un regolamento, di un contesto. Essere te stesso nei termini della categoria scelta e delle sue regole. Come fitness nella vita quotidiana o nel lavoro è efficienza fisica ad esprimere te stesso al massimo nei termini di alcune regole imprescindibili, al di là di ogni credo e di ogni posizione, che sono quelle del rispetto del proprio corpo, la salvaguardia della salute, l'amore per gli altri. Ma il filo conduttore di questa pluralità di categorie agonistiche e di interpretazioni del fitness è che fitness è credere in te stesso e che puoi essere quello che vuoi. Ti giro la domanda, se lasci essere che il tuo corpo sia quello che non vuoi o peggio ancora quello che vogliono gli altri o quello che rimane dopo che ti sei lasciato in balia delle circostanze, potrai mai avere uno stato di fitness interno ed esterno ed essere felice? E vedi che torniamo allo stesso significato di bodybuilding, non stare alle aspettative degli altri, ma capire e realizzare, impegnarsi per rendere vere le aspettative che tu stesso hai su te stesso. Questo è l'unico significato di concetti come fitness e bodybuilding perché è l'unico significato del successo stesso. Grazie. Grazie.